pensa durante la corsa dell'ascensore verso il 69esimo piano del grattacielo senti le mie orecchie otturate andavo nell'ufficio di mio figlio a new york con la moglie americana si era conosciuto a roma si erano sposati in america e adesso mio figlio era un dirigente di una società tedesca new york una vita di successo ma non avevo mio figlio se non una volta all'anno quando andavo a trovarlo certo ci vedevamo ogni giorno grazie a whatsapp ma mi mancava il padre era morto ed io lo avevo cresciuto da sola e certo mi mancava è anche vero che se fossero rimasti a roma a casa mia il tenere testa quotidianamente alla moglie avrebbe potuto uccidermi arrivo al 69esimo piano rivedo mio figlio di persona lo posso baciare l'ufficio è rivestito di pannelli di legno mi sembra un ufficio importante commento il sentire d'amore che tu hai per tuo figlio pensa l'avrai raggiunto per gli altri quando abbandonerai la ruota delle incarnazioni umane